È stata una malaugurata idea, quella di marinare la scuola per andare a rubare al Media World di San Vito. I protagonisti di quella che molti definirebbero una bravata sono tre minorenni di Capannori, uno di 17 e due di 16 anni. I giovani, denunciati dai carabinieri al Tribunale dei Minori di Firenze con l'accusa di furto aggravato a un concorso, sono stati scoperti dal personale di sorveglianza del centro commerciale, che, vedendoli intorno agli scaffali con fare sospetto e zaini aperti, ha subito chiamato il 112. Una pattuglia dei carabinieri di Borgo Giannotti è arrivata sul posto in pochi minuti, fermando i tre studenti all'uscita. Nello zaino avevano materiale informatico per il valore di circa 170 euro.